La rivalità fra Iron Man e Capitano America ha raggiunto l'apice con Civil War, e sia nel film che nei fumetti entrambi sono leader incredibilmente efficaci. Ciò che è innegabile però è che le persone li seguono per ragioni differenti, perché Iron Man, ad essere onesti, è molto più figo di Capitano America. Infatti, Capitano America può essere un po' sfigato. Attenzione, una piccola precisazione. In questo contesto figo non vuol dire bello, inteso come bellezza fisica, ma vuol dire fuori dal comune, impressionante, stupefacente, ok? Ora, in onore di Civil War, voglio dare uno sguardo a due degli attori dietro questi personaggi. Perché sia che Iron Man si sia fuso in Robert Downey Jr. o viceversa, il fatto è che entrambi sono maestri nell'arte di avere la battuta pronta e di avere un atteggiamento figo. Chris Hever rispecchia più Capitano America ed entrambi rappresentano grandi leader, ma in un modo molto diverso. Perciò, da uno sguardo come alcune piccole abitudini di Robert Downey Jr. e Tony Stark li rendono molto fighi. Mentre Chris Hever in Capitano America risulta qualcosa di diverso, completamente. Iniziamo con l'abitudine più facile da notare, la frequenza con cui Robert Downey Jr. e Tony Stark usano entrambi il sarcasmo. Guardati Robert Downey Jr. mentre accetta il premio come miglior attore dei Choice Awards del 2013. Chiaramente Robert sta solo scherzando, ma il sarcasmo è un'abitudine che lui ha. In particolare, lui sfrutta molte opportunità per scherzare elevando il suo status. Tony Stark è praticamente uguale, scherzando sul fatto che le persone sentono la sua mancanza quando arriva in Iron Man 2. E sia Tony Stark sia Robert Downey Jr. non sono timidi nel dirti le cose stupefacenti che si possono permettere con il loro stile di vita, senza recitare alcuna falsa modestia. Ecco Tony Stark quando gli viene chiesto se davvero ha dormito con 12 modelli da copertina di Maxim. Sir, ho una domanda per chiedere. Sì, per favore. È vero che hai avuto 12 per 12 con i modelli da copertina di Maximum Max? Sì, è un'accelente domanda. Sì e no, March e noi abbiamo avuto un conflitto di scelta, ma fortunatamente la copertina di copertina è una copertina. Questo risponde alla domanda come se non fosse qualcosa di speciale, anche se chiunque altro nel mondo non sarebbe in grado di dire questa storia senza un gran sorriso sulla faccia. Robert fa qualcosa di simile. Eccoti un esempio di tutti i membri del cast, mentre gli viene chiesto se sono stati capaci di portarsi a casa un piccolo souvenir dal set degli Avengers. Ecco le condizioni perfette. Nessuno del cast ha preso niente, erano troppo nervosi per farlo, perché la Marvel e la Disney hanno il totale controllo di tutto ciò che è sul set. Poi Robert interviene e dice questo, senza nemmeno sorridere. Tutti gli altri sorridono, per quanto ciò sia una vera figata. Robert, di proposito, non pare nemmeno molto divertito da questo. Lui è sfrontato quando si tratta di fare delle battute che elevano il suo status. E lo è anche nel raccontare storie vere che elevano il suo status. E dice tutto ciò in modi che fanno sembrare la cosa totalmente normale. Ed è così, perché lui è Robert Downey Jr. Tutto ciò lo fa apparire un figo. Lui non è assolutamente timido sotto la luce dei riflettori. Infatti si esalta sotto di essa. E scherza pure sul fatto che lui si merita di essere considerato ancora più figo. Chris Evans si comporta molto, molto diversamente. Lui è un po' come forse ti immagineresti Capitano America. Lui sminuisce il suo ruolo quando i riflettori sono su di lui, ringraziando tutti gli altri. Oh man, grazie. 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 Grazie a tutti. La gente, la gente, la gente che vota. Grazie a tutti gli altri che amo i filmi, che vedono i filmi, che sono passionati a filmi. Semo voi, io sono perdita. Quindi grazie per darmi un punto. Grazie a tutti gli altri che ho lavorato con l'anno scorso. Ora, questo è lo stesso premio che abbiamo appena visto vincere da Robert un minuto fa. Solo due anni più tardi. È interessante notare che Chris non fa una battuta sul fatto che lo merita. Dice solo grazie e sinceramente. Questa scelta fra lo scherzo e la sincerità si presenterà nella tua vita ogni singola volta in cui ricevi qualche tipo di complimento o elogio. Un modo di rispondere non è meglio di un altro, ma quello verso cui tendi ha un enorme impatto sul come vieni percepito. Scegli di essere sincero più spesso e le persone ti considereranno generoso, genuino e gentile. Scegli di fare una battuta più spesso e le persone ti considereranno divertente e composto. Vale la pena notare, però, che il tipo di battuta che fai ha un enorme impatto. C'è una grossa differenza tra fare una battuta autoironica, come fa Chris Evans alla fine di questo discorso. Ed autolevarsi, come abbiamo visto fare a Robert prima. Di nuovo, c'è un compromesso. L'autoironia non turberà nessuno, ma se la usi troppo spesso rischi di apparire molto insicuro. Battute autolevanti tipicamente appariranno più fighe, ma alcune persone penseranno semplicemente che sei arrogante. Un'ultima virgola da aggiungere a questo concetto è che c'è un'enorme differenza tra sorridere quando fai una battuta e non sorridere. Vedi, alcune volte la linea fra lo humor e la serietà non è ovvia. In questi casi guardiamo gli indizi del contesto per dirci se una persona sta scherzando o se è solo uno stronzo. Tipicamente il più grande indizio è se sta ridendo e sorridendo oppure no. Se non sorride ci può lasciare un po' confusi. Per un esempio di questo osserva la prossima clip dove Robert scherza su non aver invitato Jimmy Fallon alla sua festa. Vedi qui, Robert lo dice in un modo molto inespressivo e sta in silenzio per un attimo. Ed è vero che non ha invitato Jimmy alla festa, ma il modo in cui lo dice appare sarcastico. Perciò anche se Robert prosegue dopo solo un secondo dicendo che sarebbe stato bello che lui fosse stato presente, la tensione non è mai rilasciata perché Robert non la rompe, non sorride e non parla con tono diverso. Perciò guarda come si svolge il resto dell'interazione. Riguarda quest'ultima parte e fai particolare attenzione alle sopracciglia di Jimmy e poi a come lui fa una resatina, per nessuna ragione apparente. Quello che vedrai è che Jimmy sta provando a rilasciare parte della tensione creata dallo scherzo di Robert sul fatto che lui non è stato invitato. Robert non ha mai riso per lui, perciò Jimmy ha uno sguardo del tipo Yeah! Creatano le sopracciglia e poi quella piccola risatina che è il suo modo di dire Ah ah ah, era solo uno scherzo, anche se non mi sembra proprio così. Ora, so che molti gruppi di amici diranno robe tipo Sai, siamo amici e tutto a posto fra noi. Sì, sappiamo tutti che sta solo scherzando. Ma la verità è che le battute sarcastiche senza rilascio, che sono a spese di qualcuno, non fanno sentire bene le persone, anche se siete amici. Gli fa dubitare se tu gli piaci. Non importa per quanto lungo siete stati amici. Quella sensazione rimane e per questo è la sensazione che Jimmy è quello che sta lottando per piacere a Robert per il resto dell'interazione. E questo è un modo con cui l'effetto tipo figo viene creato. Paragona questo con quello che tende a vedere da Chris Evans. Quando lui fa delle battute, non solo sono autoironiche, ma lui tende a fare battute che elevano gli altri. Guarda qui per un esempio di come lui scherza sul fatto che vorrebbe che le persone pensassero che lui assomiglia a Chris Hemsworth. No, io sono prato, io non ho mai pensato a Hemsworth, che è veramente assicurato. Perciò, il contenuto della battuta è che lui desidera che le persone pensino che lui è Hemsworth, che desidera poter essere più come Hemsworth. Lo sappiamo che sta scherzando, perché è troppo ridicolo e perché ride, ma questa battuta è di fatto l'opposto di ciò che abbiamo visto fare a Robert Downey Jr. Non c'era tensione creata qui, e lo puoi vedere dal modo in cui Chris Hemsworth risponde, semmai c'era un piccolo momento di orgoglio. E questo è ciò che succede quando elevi le persone nelle tue battute. Guarda di nuovo come lui diffonde il buon umore attorno a sé. Qui lui fa una battuta su come è stato fondamentale il ruolo di Robert Downey Jr. per fare tutti questi film della Marvel e come, anche se questo è vero, lui sarà umile al riguardo. Perciò, allo stesso tempo, sta parlando dell'importanza di Robert Downey e della sua umiltà. Persino nella prossima clip, quando gli si presenta l'opportunità di prendere in giro Chris Pratt, lui prende la direzione totalmente opposta e sminuisce se stesso mentre eleva Chris Pratt. Il punto qui è che non solo hai un'opzione fra lo scherzare o l'essere sincero in una conversazione. Hai anche l'opzione di scegliere in quale direzione far andare le tue battute. scherzerai al fine di elevare il tuo status e prenderai in giro gli altri o sarai autoironico mentre elevi gli altri? La prima versione probabilmente ti renderà più figo e rispettato. La seconda ti renderà più amabile. Vedo lo stesso compromesso nel modo in cui le persone gestiscono le battute degli altri. A questo punto, se ti dicessi che una persona ride davvero, davvero fragolosamente alle battute degli altri e l'altra è più riservata, probabilmente sai chi è chi. Chiaramente c'è uno schema fra Chris e Robert, perciò procediamo e osserviamo come Chris inclina indietro la testa e ride come un matto anche quando le persone fanno battute su di lui. Perciò ora osserva come Chris Hemsworth ridicolizza Capitano America per essere un personaggio senza sfumature. anche se Hemsworth sta dicendo che lui non ha aggiunto davvero nessuna nuova sfumatura dal suo personaggio, Emma non la prende per niente sul personale, crolla sulla sedia ed insiste che la battuta era perfetta. Questo mostra che lui in realtà non è insicuro riguardo queste battute e fa sentire Hemsworth alla grande. Vogliamo tutti essere divertenti, perciò quando qualcuno esplode in una risata per una nostra battuta ed insiste che era perfetta, non possiamo resistere dal gonfiarci un po' d'orgoglio. Sono sicuro che hai avuto qualcuno nella tua vita che ti ha fatto vivere questa esperienza e che ti ha portato a voler spendere più tempo con questa persona che stava ridendo alle tue battute. Robert Downey dall'altra parte tende ad essere più pacato, a volte volutamente soffocando la sua risata. Non è che non ha senso dell'umorismo, è solo che lui preferisce giocare la parte di chi non ha trovato lo scherzo divertente, così può rispondere con un'altra battuta. E puoi notarlo in questa prossima clip, dove lo prendono in giro perché lui è vecchio, ma dopo pochi secondi non resiste e finisce per ridere. Nota qui, di proposito non sta ridendo. Poi non può resistere, sta per dare una risposta sagace e divertente, ma viene toccato, troppe persone lo prendono in giro e alla fine ride. Ciò è molto comune per lui, lui trattiene la sua stessa risata e si prepara per rispondere con un'altra battuta, invece che condividere la risata con le altre persone e far loro sapere che la loro battuta era davvero divertente. A questo punto ho speso molto tempo a parlare di scherzare, perché davvero questo è uno dei più grandi indicatori che determina se vieni percepito come figo e rispettato o come amabile. Ma c'è un altro aspetto che è molto importante e questo è dove poni l'attenzione. Dove poni l'attenzione quando stai parlando con qualcuno ha un enorme effetto. Determina se loro sentono il bisogno di dimostrarti il loro valore. In questa prossima clip sta indossando gli occhiali, ma puoi ancora vedere come l'attenzione di Robert ed il suo contatto visivo sembrino vagare dopo che ha risposto alla domanda e qualche volta anche nel mezzo della domanda, guardandosi oltre le spalle o verso la telecamera. Di fatto ovunque tranne che verso l'intervistatrice. Se stai parlando con lui, questo può creare un po' la sensazione che hai bisogno di riconquistare la sua attenzione per tutto il tempo e questo crea un momento di ansia perché pensi che potrebbe andarsene. Ciò che questo causa è farti voler essere più interessante così che tu possa mantenere tutta la sua attenzione. Questo è un altro aspetto che lo rende figo, mentre tu ti sforzi di vincere il suo favore. Chris Evans, dall'altra parte, tende solo a guardare la persona negli occhi mentre le parla, soprattutto quando lei gli sta porgendo una domanda. In questo modo la persona sente meno la necessità di vincere la sua attenzione. E lo puoi vedere qui in questa clip, che ne è un grande esempio. Ora, la verità di tutto questo è che né Robert Downey Jr. né Chris Evans fanno queste cose per tutto il tempo. Per esempio, Robert Downey Jr. risponderà sinceramente alle domande ed elogerà le persone. E Chris Evans prenderà in giro i suoi amici. La prima volta che ci hai parlato. Ci hai parlato. Ci hai parlato. E' questo il mio stand-in? Oh, no! 4. Ups, hey. What's up? Mi hai un coppia? Grazie, bro. Ora, ovviamente tutti noi seguiamo alcune di queste abitudini alcune volte, ma dove voglio arrivare è che è importante l'equilibrio che tu trovi e che è creato dalle tue abitudini di interazione. Noi tutti abbiamo abitudini quando parliamo di interazioni umane. Le abitudini di Robert fanno spesso sentire le persone strane, ma anche potenzialmente insicure del loro status. Questo è ciò che significa essere davvero figo. E' quando le persone pensano che sei fantastico, ma loro non sono proprio sicuri di essere al tuo stesso livello. E poi, vedi come le abitudini di Chris non lo facciano apparire altrettanto figo, ma lo rendono pur sempre estremamente amabile. E questa è la grande differenza fra i due schemi di comportamento che abbiamo visto oggi. Lo schema figo, esemplificato da Robert Downey Jr. in Iron Man, è composto da battute che elevano il proprio status, attenzione distratta, e tutto quel tipo di cose che fanno andare via le persone mentre pensano, spero di piacere a questo tizio. Chiamerei l'altra abitudine che abbiamo visto in Chris Evans, lo schema generoso, composto da battute che elevano gli altri, attenzione focalizzata e che fa andare via le persone pensando, sai cosa? Mi piace davvero questo tizio. Ovviamente puoi fare entrambe le cose in momenti diversi, sicuramente. Puoi essere amabile e figo, ma devi scegliere da che parte penderai il più delle volte. Devi scegliere quale abitudine applicare più spesso. So che il titolo di questo video è quasi perché Iron Man è più figo, ma secondo me ti conviene tendere più verso l'essere amabile che verso l'essere figo. Questo porta le persone attorno a te a sentirsi meglio. Per me è qualcosa che vale. Perciò ti raccomando di trovare il giusto equilibrio per te. Se vuoi creare più intrigo, più rispetto, puoi aggiungere un po' dello stile di Downy. Se vuoi far sentire le altre persone bene più spesso, forse dovresti consentire a te stesso di ridere come un pazzo alle battute degli altri. In breve, fai solo attenzione a come le tue abitudini fanno sentire le persone attorno a te. Queste abitudini diventeranno la tua formula che andrà a definire l'impressione che lascerai più di frequente. Se sei interessato nella formula per lasciare una fantastica prima impressione durante ogni nuovo incontro, incontro di lavoro, una donna che incontri mentre fai un giro o un tizio interessante che contro in un locale eccetera, guardati la video guida che descrive le 4 emozioni che garantiscono una fantastica prima impressione ogni volta. Trovi i link in descrizione. Clicca mi piace se hai visto il video fin qui. Ricordati di iscriverti e di cliccare sul tasto con la campanella di fianco al tasto iscriviti per non rischiare di perderti nemmeno un video. A sinistra trovi le due playlist consigliate alla settimana, a destra i due video da non perderti. Clicca su ciò che ti incoraggiu di più. Alla prossima e buona Pasqua!